non cliccate niente avete tutte cose blu non cliccate nulla è tutto marrone pur io non cliccate niente attenta a quello che clicchi levatevi il mouse dalla mano lo metto qui nel culo ecco ok è andato piplop piplop è mio non me lo toccare iniziate a registrare 3,2,1 stai già registrando no pure il mouse nel culo stai registrando ahimè io quella me la sono persa cazzo ci avrei fatto la intro allora come sfruttare una piccola youtuber che non vuole no vabbè che c'entra se ti infili le cose nel culo no l'ho messo giù l'hai messo giù no l'hai messo giù allora vai siete pronte possiamo partire eh si dai faccio l'intro fai quello che vuoi beh fai quello che vuoi mi inizio così mi registro le video per i cazzi poi vi faccio sapere ok ok grazie ok va bene e mentre vai a mangiare ciao ciao ok posso partire vado siete carichi si io ti avviso questa qui sarà la serie di pokemon e pixemon quelle che l'è al femminile quindi tu sarai il nostro pokemon ma che pixemon al femminile no no pixemon in trio che è che è partiamo vai tre pepo pepo già partiamo male vai tre due uno eh ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci trovo in una nuovissima serie sono in compagnia di due compagnia di vale vai vale vai vale vai vale questa è la serie pixemon e pepo vabbè mi presento da sola io sono fra ladyfra 92 ladyfra 92 per gli amici ladyfra 92 la famosissima ladyfra 92 famosissimissima eh siamo nella serie della pixemon che stiamo facendo tutti insieme 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 e siamo alla scelta dei pokemon siamo nella pixemon ok dobbiamo scegliere il pokemon ragazzi francese tu cosa vi il pinguino piplop è mio e pucci è troppo carino io odi io prenderei un tepig anche tu col maiale perché allora siete pronti vai scegliamo allora voi che pokemon scegliete io già la mia scelta l'ho fatta non ho ancora cliccato clicchiamo tutti e tre insieme no io ho scelto allora io sono allora sono snivey o hoshavot hoshavot proprio è andata una faccia da cazzo quindi c'è ma hoshavot allora tre allora al via scegliamo il pokemon ok vai tre due uno via vai io ce l'ho oddio dove sono io ce l'hai sono nella giungla ciao vado a dodici tredici non riesco a camminare aiuto è impedita attenzione vado a 15 fps aiuto aiuto sto morendo oh oh vale aiuto ok vabbè basta vado a dodici 15 intanto raga con la r tirate il pokemon oh vedi che puccio il mio più puccio allora lei ha scelto un pokemon d'erba pim plap pinguino tipo acqua e io c'ho mad che però è tipo acqua ma appena si evolve diventa stramega fico perché mad che sto facendo ma basta mio diventa acciaio acqua e le prende da mad quella superba che si arrende mai diventa acciaio acqua e le prende da mad ma di più poi si evolve in swampert swampert bravo swampert 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 ok cosa si fa in questo primo episodio in questo primo episodio io sto laggando io sto laggando bellissimo attaccalo no lasciamelo stare è mio no non lo puoi attaccare allora intanto dobbiamo andarcene da questa giungla perché siamo allo spawn point e ci dobbiamo allontanare allora dovremmo cercare un centro pokemon scusa e nulla ragazzi qui sotto nei commenti fateci sapere cosa vorreste vedere in questa serie partecipano anche chip bisogna ricordarlo tutta la compagnia del chip luke jo xander ulisse ulisse babbo natale pepo coniglietto pasquale cos'è cos'è un venom ho trovato cos'è cos'è no non lo toccare un venom un venom è un venom è una palla viola come lo sto uccidendo lo sto attaccando no le stai prendendo la cosa è diversa come faccio vale vale ti sciocca vale vale ti ammazza il pokemon vale è fregata ti ha attaccato non può scappare che spavento ti ha attaccato il pokemon è meglio andare via perché è livello 23 ti sciocca oh filo ragazzi ragazzi andiamo via sei morta come mi ritiro il pokemon come? come mi ritiro r con l'r andiamo no no non lo tocchi più andiamo no ti può attaccare anche senza pokemon andiamo andiamo che bastardo no t'avviso se ti sciocca il pokemon poi non puoi più combattere sei nella cacca sento botte ragazzi seguitemi perché ci perdiamo se mi faccio una spada in nero seguiamo non puoi fare nulla con le spade sono inutili le spade francesca combatto in nero aspetta ma intanto io faccio option video set ok che battute hai fatto fai le battute tristi ho detto è tutto nero non mi do niente io ho detto mi ho perso dove siete? incredibile ah comunque ragazzi piccola precisazione si king che figo sto nell'acqua ma mi state seguendo? si mi sto laggando allora dovremmo trovare intanto un centro pokemon e in secondi comunque ringraziamo anche noi game hosting perché il server si si tantissimo andiamo ho stato da game hosting cos'è sto cosa? guarda è un allenatore la fluidità ma da fuck mi sento così fluido è brutto come la morte no ma io voglio che livello è? che brutto che bello ragù cosa? non lo attaccare vale ti incula tantissimo senza pokemon allora ma scusa se noi premiamo x no m ci apre la mappa m m m m m m è troppo andiamo cos'è questo qua come si esce? è sempre m che cos'è questa cosa? oddio è una mappa enorme centro pokemon cos'è il suo coso? oddio raga ma ci si può tippare o no? è lo spero no 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 voglio cittare andiamo via ok va bene ma do raga le mappe enormi bellissime è giorno il sole c'era un tipo c'era un tipo lì ma che cattolo dove? rattata oddio raga con la m potete far vedere tutta la mappa dove sono? mi sono perso signorina mi pittivo signorina che è sto coso brutto via scappa scappa come si fugge? dovremmo andare tutto dritto non vedo per allora no mi sta picchiando aiutatemi mi siete perse? dove siete? mamma mia dove signorina? pikachu sappiate che è un video dove vi vengo a cercare non lo voglio fare mi stanno picchiando aiutatemi la continuerò da solo ok perché i due pikachu si picchiano? perché sono maschio e maschio va bene allora facciamo una cosa ci incontriamo in un posto è un uccello siete qua ok andiamo 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 no io sto le sto prendendo da un lediba dove sei? perché vi hai fatto attaccare? è il pokemon che mi ha attaccato che cazzo c'entra il villico con i pokemon? ma che c'entra il villico? ma che c'entri tu qua? siamo nella pixelmon non siamo nel my dream aiutatemi mamma mia c'è villico di merda tu non c'entri nulla aiutati ma che mi ha droppato? mi è morto pip ok perfetto a posto non puoi più usare perfetto ok ora serve il centro mi sono persa allora eh ragazzi puoi allora premetta la M premetta la M vale premi la M no un attimo allora se la vedi aspetta sulla destra girati dal lato dove sono io guarda verso di là ma io non vi vedo più guarda verso di là ok verso l'orizzonte che cazzo è qualcosa che gira torno torno è un Arbok è un Arbok è un Arbok non è un Cobra no voglio vederlo pure io vabbè è Cobra al contrario ancora non è il pokemon di quella lì che faceva contro Ash e Company si si è il pokemon che usa Jesse esatto che usava Eccans che poi si è evoluto in Arbok ciao dove siete il verso Eccans dove sei fra dove sei sto vicino ad una costruzione guarda gli uccelli gli uccelli dove stanno vale segui gli uccelli segui gli uccelli gli uccelli gli uccelli gli uccelli sono caduto ma porco questi pokemon mi riaffiorano i vecchi ricordi di quando erano ecco qua fermi fermi mi ho visto da sola ce l'ho fatta da sola allora grandissima fra allora guardate da quel lato dai che dobbiamo raggiungere il centro pokemon dai che è tardissima è tardissima è tardissima vi ho detto guardate non camminate ok mi spezzo dei gambe fatto allora state guardando fra guarda da quel lato ok premete il tasto M premete il tasto M vedete davanti a voi molto davanti a noi che c'è un deserto e poi c'è il pokemon andiamo andiamo mettete il puntatore andiamo andiamo hai messo il puntatore là ti ho cliccato no non devi cliccare ho cliccato pure io adesso vabbè andiamo vabbè seguitemi ho capito ho capito l'importante è che ho capisco io seguitemi no io ho capito allora dobbiamo andare diritto una volta superato il deserto superiamo ancora un po' il deserto troviamo il poke centro vabbè no ma stai dato un pg non ci credo mai livello 9 no run ti prego fuga 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 non ci andiamo via non ci credo porca eh no lo devo attaccare per forza ma figlio di forza che figo lo voglio attaccazione lo voglio no mi hai fatto tantissimo un attimo ti attaccato pure a te no ci uccide tanto il mio già è morto tu vuoi uccidere il gioco aspetta ok ok mia madre chi fa morta no mi è stato acido non sto acitando dove sei ma dove sei vale tu va mandato dritto no io ho dobbio oddio l'harbot è stato bello ottimo 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 allora ti è morto ok andiamo vale andiamo andiamo mi hai picchiato me prima aggiungiamo il pokemart e te per i marted andiamo andiamo che cappero è ah un idolat non mi piaceva 15 fps che bello oh dio io ho 50 devo all'entrava bello io ho 60 avvi fatto dai voglio 15 andiamo 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 voglio curare il pokemon e poi lo dobbiamo allenare però lo alleneremo nel prossimo episodio andiamo andiamo missione pokemarket andiamo pokemon center in questo episodio ok io prendo un pochino di cactus mi piace mi piace no ragazzi non riesco a camminare devi premere w fra ti faccio un tutorial si per favore un dio lag ce la farà la nostra francesca raggiungere non penso lo sai che se lo premi due volte puoi correre più veloce no davvero ce l'ha mangiato ce l'ha mangiato vale vale chi si è mangiato quello questo e lascialo stare andiamo andiamo oh vale un monkey un monkey lo so lo so aia un monkey oh dio vediamo che c'è dentro che figo oddio c'è un magma oddio c'è un magma dai faccia di culo guardami è brutto combatti c'è il coraggio bastardo di merda ma c'è un villico dentro picchiamo non uccidete non abbiamo i soldi c'è la banca che cos'è dov'è la porta permesso le miei scrivo le mail oh c'è un peppo si riceve i centi di valore come le mail buongiorno wow quanta roba che ho oddio eh si vabbè ha le mutande rosse come si fa che faccio ha le mutande rosse guarda c'è le chiappe da fuori le chiappe da fuori vabbè andiamo via io voglio curare il pokemon eh non puoi andiamo andiamo via rubiamo rubiamo tutto andiamo 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 seguitemi mi sto rubando la crafting andiamo 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 dove sei gli oggetti non servo ma non servo che cassetta è la posta che quelle cose andiamo andiamo sto dietro sicuramente immagino lei ci avrà perso no no vi vedo vabbè dai io sono al pokemon quindi oh ok porca zazza che figo le voglio andiamo ma che vuoi un tropius troppius troppius la pepì lo voglio ma questo c'è qualcuno andiamo andiamo chi c'è che c'è pronto è nostro adesso è nostro perfetto l'abbiamo toccato per ultimo nostro ok ok non dovrei c'è il gameboy qua il gameboy vediamo se c'è roba dentro se c'è roba dentro no non dovrebbe rubiamo rubiamo allora curatevi il pokemon vale vale ok mi è in salute un bel sprout che mi ha sfidato sto cosa ma muori ok vai eh sì vabbè mi ha fatto tantissimo vale vale sono morta sto destro una di queste cose no è il mio pinguino mi è morto vendicatemi aspetta ok abbiamo curato il pokemon sono mortissima adesso con l'erre come te l'ho ucciso si dai come ti dico di attaccare a snivey eh basta che tiri la pokeball sopra oddio ma fa malissimo sto bel sprout ti ho detto è la morte li ho ucciso ce la facciamo fight eh tre tre con l'erre che gli devo dire di usare eh take all take all è il tasto è la reazione vai 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 picchialo forte e poi insultiamolo magari si offende pokemon erba contro pokemon erba in effetti cioè poi io ci butto pure il pokemon d'acqua che voi è la il l lo sto piccando vada ehm si più o meno lo stai per uccidere vai 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 ti vedo giallo giallo vai attacco l'attacco 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 ancora attaccazione vai che si vivella il pokemon vai è incredibile ed eccola qui vale che fa attaccazione piccchia piccchia grande oddio che cazzo è droppato non lo so le foglie che cazzo è vomita hp2 attack 1 defense 1 eh vuol dire che ti ho aumentato di livello ti ho aumentato di livello che livello è butta la terra 8 3 livelli livello 8 20 perché c'è il mio pupuccio di tutti ecchiatto eh lo scopriamo nel prossimo episodio quindi se vi è piaciuto come sempre pollicione in su fatemi sapere come ne cosa ne pensate della se donna stai zitto donna zitto allora quindi faccio sapere cosa ne pensate di questa serie qui sotto nei commenti commentate in tanti vi piace la pizza e il mondo e fatecelo sapere perché quindi magari nei prossimi episodi ci facciamo il culo vincchia chiaro vale ti oro vale ti oro aiuto è livello 8 vabbè ovvio il mio pupuccio ma più avanti guardano un meccarino no vabbè devo dire una cosa chiudi il video che io devo dire una cosa in segreto vai 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 dillo dillo ragazzi in segreto qui dillo al mio al mio pipa allora ragazzi nell'angolino vai snivey allora c'è tanti pollici in giù a questa serie perché altrimenti snivey pazzisce come sta facendo adesso vabbè commentate con dividenti al di un prossimo video e ciao 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 Grazie.